Ragazzi, octagonal non mi bastava, decagonal nemmeno. Oggi giochiamo su Hexagonal Tower, una torre composta da tantissimi piani dove l'obiettivo è quello di raggiungere l'ultimo piano e poi attivare il bottone dell'endgame, come in tutte queste mappe. Per giocare a questa mappa oggi ho deciso di contattare un ragazzo che probabilmente molti di voi conosceranno, uno youtuber di zombie, ovvero Sal24R. Riusciremo a completare la mappa? Lo scoprirete guardando il video. Diamo inizio alle danze. Questa me la sento buona. Secondo me è per un tentativo di botto la chiudiamo. Ok, lo facciamo. Allora, dobbiamo aprire una di queste due porte, costo 2000. Oh, oh, è vabbè, da dietro. E' arrivato uno zombie da dietro. Ti aiuto. Ok, potete arrivare a 2k, poi il resto riferisco. Ok, 1440. Io direi che il prossimo round è andare subito secchi dall'altra parte. Prova a stirarti qua davanti e ad abbassarti qua davanti al quick. Ah, è vero, dovrebbe darmi, in teore. Sì, me li ha dati. Ok, mi dimentico sempre di fare sta roba. Ah, ecco perché ce lo spawno qua nel mezzo, maledetti. Ah, non te ne hai ne accorti? Io non te l'ho detto. Ok, ho 2000, possiamo andare. Vai, vai. Apri dove vuoi. Allora, andiamo qui, a caso. Questo è il primo piano, noi eravamo tipo nel seminterrato, ma siamo al primo piano. Ma ci si può sdraiare qui? No, cazzo se questo può sdraiare. Ah, eh, volevi. Qua c'è il fall, zio, a 600 punti. Eh, quasi quasi, sai che lo prendo. Sì, anche io mi sa che lo prenderò. Perché non abbiamo armi. Qui al muro, vero? Sì. È brutta questa storia che spawni con questa pistola a marcia, eh. L'hai preso? Zio, sei un po' chiudo. Però... Adesso, non si può saltare qui. Anche queste barriere qua che ti fanno da ostacolo non sono tanto... Ok, dammi il fall. Allora, se vuoi ritornare sotto? Allora, prima senso si può andare sia a destra che a sinistra e allo stesso luogo, eh. Sì, 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 è speculare. Ah, per andare avanti dovremmo riuscire ad aprire una di queste porte. Cioè, le porte e i muri, semplicemente. Penso che sia sempre così e credo, suppongo, che sia forse sempre più stretto anche. Sì, eh. E poi ogni piano ci sarà una bibita. Il piano terra quick, qua double tap e sopra ci sarà un'altra bibita finché non troveremo il juggernaut, cosa che è un must. Tento dietro. Minchia, mi stanno chiudendo. Oh, è tosta però, eh. Facciamo il giro, facciamo il giro. Facciamo il giro così. Aspetta che li provo a buttare giù. C'è duemila. Ah, però, apriamo. Duemila o più, Gustavo, non mi ricordo. Ma guardo, ma guardo. Da sopra chissà se si può scendere. 2k, ok, saliamo. E vai, la prossima. Nuovo piano, nuova corsa. Zio, questo piano è ancora più stretto, avevo ragione. Ah, e qui c'è il Widow's Vine. Oh mio Dio, ma guarda com'è sopra. Cosa 4.000 però. Io devo riuscire a prendermi un'altra arma perché... Io tra i 50 potrei anche aprire la porta. Sì, sì. L'arma c'è qua. La G... È il G18. Io la piglio. Che è la pistoletta, non mi ricordo io. Sai che non... Credo anche io. Sì, minchia, non la devo prendere, una merda. Oh, io posso aprire. Apro? Vai. C'è la nuke. Presa, presa, vai, vai, apri. Ok, perfetto. Nuovo livello. Minchia, stiamo andando abbastanza rapidi, eh. No, il Deadshot. Zio, minchia, questo è arduo però, eh. Minchia, questo è tosta. Vabbè, si può scendere però. Forse è anche meglio, sai, gestibie. Sì, è gestibie, dai. Ok. Per sbaglio sono andato dal piano sotto ancora. Comunque 2, il fatto che 1 potrebbe potenzialmente andare a terra ti salva. Quando giochi da solo la rovina è proprio che non puoi morire. Quanto è questo il Widow Wine? Com'è? 4.000. Minchia. Comunque è molto grande come mappa questa qua, eh. Eh. Il Jug dove lo troviamo? Scusate, più in alto. Salendo e non so ancora di quanti livelli. Il problema è questo. Ok, faccio una corsa e devo prendere. Merda, no, 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 no. Abbiamo fatto tipo una deviazione improvvisa. Sì, ho fatto chiudere. Si è creato un... No, vabbè. Ardua, eh. Ardua, ardua. Un po' incasinata. Però noi abbiamo capito come funziona e dove sono le armi. Più che altro, sai cosa possiamo imparare a fare? Stare uno in un piano, uno nell'altro. Easy. Sì, bravo, esatto. È quello che pensavo anch'io. Magari prendere direttamente il PDV che non è male. Anche il G18 però, eh, che ho preso prima non è male. Siamo ritornati dove eravamo prima. Io sto su, 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 ora. Ok, io sto qua giù. Prendo il PDV e scendo, eh. Questa G18 non mi dispiace però, sai. Ah, il PDV mi trovo più a mio agio. È più... Mi piace di più come arma. Ha più colpi. Sì. È sicuramente più gestibile come arma. Quanti punti abbiamo? 2003. Prova ad aprire? Sì. Ok, ho aperto. Piano ancora più alto. Spero nel jug. Speriamo nel jug. No, c'è il stamina up. Ah, stamina up. Ma io però ho finito i colpi. Fa come stare la velocità dello scatto, diciamo. Sì, 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 quello lo conosco. È una cosa basilare come perk. Sì, sì, anche per chi guarda il video magari che... Insomma, magari c'è qualcuno. No, vabbè, ma fai bene. Ok, ok. C'è una delle tue scine qua. Vuoi prendere tu, la prendo io? Eh, se me la fai prendere mi fai favore. Non prendo, ma perché ho finito colpi della secondaria. Aspetta un attimo. Vabbè, uguale. Stava sparendo, aveva un po' di paura. Vabbè, ma tant'è. Fa durata, certo. Attento con quella perché ti muovi piano. Eh, potrebbe essere anche uno vantaggio. Però spacca tutto, cazzo, sta roba. Ah, che arma c'è qui? Ah, qua c'è sempre il PDV. Io c'ho 4.000. Lasciamo uno zombie surround. Lo zoppi tu? Sì, anche se non è zoppo. Vai, c'è uno zoppo. Ok. Ok, andiamo a esplorare l'esplorabile. Sì, mica, tu hai 5.000 punti, ne apri due di porte. Sai che secondo me siamo quasi arrivati già alla cima? Cioè, proprio la butto lì. Perché non può essere così alta? Dai, guarda quanto cazzo siamo in alto. Non lo so, un po' si vede qua, tipo, in trapparenza. Quindi, vieni su, vieni su nel piano più alto. Dovresti aprire qui. Poi, ovviamente, l'endgame sicuramente richiederà... Se uno casca, si fa un bel volo qua, perché va a due piani. Muore, muore semplicemente, penso. Oh, la cassa, dai. Vediamo su, però, il piano più alto. Vieni qui. C'è il jug, il jug. Oh, eh. Poi c'è un altro piano. Io aprirei, forse. Lo vuoi prendere? Ok, ok, dai. Io lo prendo per stare più safe. Qui c'è il pack avance. Zio, mi sa che sia... No, non siamo... Guarda quanti piani ancora! Allora, ce n'è uno, due, tre, almeno tre. Di cosa? Di piani ancora, sì. Di piani, sì. Vabbè, andiamo avanti, dai. Separiamoci, stiamo a livelli diversi. Io non ho manco un perk per ora. Non so quanto possa essere buona questa cosa. Vabbè, prenderò il jug e basta, sti cazzi. A munizioni come stai messo? C'ho il PDV bello full e il falco con 80 colpi. Ah, ok. Eh, boh, secondo me è fattibile. Nel senso... Secondo me è una di quelle mappe dove... Però ci vuole veramente poco a prenderla nel culo. Sì, sì. Però vedi, come dicevo prima, la cosa buona è che non ti spawnano tutti addosso. Cioè, sto vedendo che secondo me sono tanti i livelli. Sì, sì, non è... Cioè, comunque un minimo di spazio c'è. E poi, soprattutto, si può lasciare uno zoppo. Alcune mappe non ci sono neanche round, sono a tempo. Non puoi lasciare neanche lo zoppo. Oh, c'è, tipo, ha droppato un'arma, un KSG, mi pare. No, ma cosa? No, no, questa cosa non mi piace. No, ma tipo ho preso l'arma e sono venuto tutti gli zombie addosso. Merda. Non hai capito? Io sono messo un po' da schifo. Eh. Stanno arrivando tutti da qui. Sì, stanno arrivando. Merda. Ok. No, ma stranissimo. Cioè, c'era l'arma blu che lampeggiava. L'ho presa e tutti gli zombie mi sono venuti addosso. Ti vengo a salvare, se riesco. Vabbè, dai, fa niente. Sei morto? Porca troia. Non scelmendo. Allora, c'è il PDV qua vicino al muro. Io posso aprire anche per andare più su. Ok. Il jug dov'è? Quanto è che costa il jug? 2005. 2005 che me lo piglio. Ok, mo se piglio il jug, in teoria, dovremmo riuscire a... No, ma se non è un partito dal piano terra. Davvero? Vabbè, sai che forse non è così male, perché si dividono per bene, mo? Eh, però non ho armi. Quella è una buona merdata. Io resto al piano del Widow Swine, sotto al PDV, a girare, ok? Uh-huh. Oh, per morire mi sono... Eh, sì, vabbè. Cosa ho trovato? Che faccio arrivare? Dimmi se c'è l'ho dietro. Oh no, vai, vai. Minchia, stavo muorendo, ma non male che ho il jug. Ti ha rimesso a terra? Sì, ma mi sa che non hai compreso l'era di... Oh, lei. È un po' critica la situazione, non neanche più colpi. Non neanche più colpi. Ti dice 8. Ok. Stavo per dirti lasciare uno zombie, va bene. Eh, scusami. Sì. No, no, ma perché ti sei... Ok. Non per me, così magari esploravi sopra, non lo so. Ma io ora mo' faccio la cassa e vado su. Provo. Minchia, comunque è incredibile, eh. È veramente altissima questa torre. Ma più che altro che ricominciare dal piano terra... Non è proprio facilissimo. Cos'è M1 Irons? Ho trovato sta pistola, l'ho presa. Non ho idea. Era tipo una... Minchia, è fortissima, mi sa. È tipo una... È una cosa di fortuna, allora. No, cazzate, è una merda. No, aspetta, in testa sciotta. Zio, tira un colpo in testa, st'arma. Ma stanno salendo in ultima me. C'è anche il pacca pancia alla porta dopo di aprire, ho visto. 5.000 puoi potenziare. Ok, c'è una bomba, c'è una bomba. Se vuoi la prendo. Vai, 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 prendi là. Buono. Ho preso il pompa per sbaglio, sono un mega mongolo. No, vabbè. Che ho preso? Il pompa per sbaglio. Io provo a salire ancora di più, zio. Sì, vai, vai. Sta diventando un labirinto sta cazzo di mappa, non so più dove andare. Dovremmo potenziare anche le armi in realtà, più che aprire a caso. Sì, la porta dopo ad aprire. La porta dopo? Ma io devo fare un po' di punti e... Così, direi di lasciare uno zombie. Sì, 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 sì. Che fare tutto durante il round è un po' un problema per gli zombie che vengono addosso. Certo. No! L'abbiamo uccisi in contemporanea. Sì, non ho parole. Io sto aprendo per salire su di nuovo. Ok, ho trovato il pacca punch qui. Ho bisogno di trovare i soldi per aprire. C'è un altro perk qua su. Io ho un perk e basta, cioè. Io nessuno. No, zio, minchia, questa cosa è difficilissima, non hai capito? No, vabbè, dove mi sono andato a mettere? Ho preso un'arma dalla casta. Ben tarro, ho preso. No, non hai capito. La sito è criticissima. Ancora più stretto. Minchia! Oh, c'è la... La macchina mortale. Piglia la piglia la piglia e fai fuori tutti. Ok, io posso salire. Ancora anche i tuoi sopra. Sto salendo ancora, ho aperto ancora. Zio, ma che cazzo? Questo corre un botto. Sono... C'è la speed cola qua su. No, ma io ho finito quasi i colpi. Cioè, ma sono sempre... Oh, c'è una nuke. Zio, mi sa che... L'ultimo piano mi sa quello che c'è tra poco, eh. No, ma la situazione è veramente molto grave. Che arma è il... L'M21 EBR? Mi sembra un fucile assalto. No, ma non è speciale. Non so se ci conviene stare tutti e due sopra, eh. Ah, qui è l'ultimo. Ok, scendo giù. Sì, 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 sì. Questo è l'ultimo piano, per ora. Io ho il jug, io. Sto aprendo per se le sue ancora. Oh, no, no, ma come? Corri. Sono arrivato qua. Mule kick. Non è ancora l'ultimo piano, no, vabbè. Non hai capito un cazzo, zio? Sono arrivato stra in alto. C'è un altro piano ancora. Ancora. Però il problema, ma, è che... È una stanza e basta questo piano dove sono arrivato. Ah, è tipo... Ok. Io ho bisogno di munizione o prendere qualcosa. Io c'ho tipo un sacco di zombie. Forse... Cerco di tenerli un po'. Fammi fare qualche kill. Li tiro una granata che mi servono punti. Sì, vieni. Li vedi? Vai, vai. Non ti arriva nessuno zombie? Puoi anche sparargli. Ok. Ma mi sa che sono gli ultimi, eh. Prendo un'arma a casa da qui. Ti prego, dicimi un'arma... No, è un cecchino! Ho preso un cecchino. Fammi li killare, per favore. Vai, vai. Uccidi, uccidi. Se puoi non uccidere lo zoppo. Oh, e... Infiniti. Oh, questo mi piace. Sono morto, mi sa. Tento, attento. Lascio lo zoppo. Minchia, che situa, ragazzi. Mamma mia. Puoi aprire l'ultimo piano? Eh, infatti, stavo per chiedere. Quindi, apro l'ultimo. Penso che sia l'ultimo piano questo qua. Ma lo devo vedere. Sto salendo. Ma è altissima questa cosa. È altissima. Però è fighissima allo stesso tempo. Io penso ogni piano un perk. Quindi i perk sono 12, 13. Qua c'è calcio... Quanto costa l'ultimo piano? 2000, sempre. Ce la fai aprirlo. Io devo trovarlo. Ma è che qua i prezzi non l'hanno aumentato. Invece i cube, tipo... Eh, sì, costa sempre di più, minchia. Non si riesco a non morire. E qui c'è l'affiddo che è quasi, quasi... Dopo un pensionino... Questa che arma è? E cos'è l'F2000? La prendiamo a caso. Ah, è un'arma... Ok, è una R. Vabbè, ti nemmo a questo R. Ok. Allora, c'è l'ultima porta. C'è anche il... Aspetta che voglio assistere mentre lo apri. Dietro c'è anche il Wunderfitz. Non so se sai cos'è. Eh, no. Una cassa dei perk. Cioè, praticamente ti dà i perk random, tipo cassa. Ah, eccola qua. Non l'avevo mai vista. Apri. Ok. Dovrebbe essere l'ultimo piano. Vediamo. No, un altro! No, aspetta. Qui c'è il PhD. No, c'è l'endgame. 35.000. Dov'è? Ah, eccolo qua. 35.000 dobbiamo fare per fine sta partita, quindi. Zio, li facciamo? Vediamo che ci sono qua dietro. Ci proviamo? Sì, però stare qua non credo sia... La A12 c'è qui. Direi che forse questa stanzina non è proprio il posto più adatto per... Andiamo giù con calma. Camperiamo. Ma io direi anche piano terra giù. Cioè, le armi ce le abbiamo messe bene. No, io vorrei potenziare l'arma adesso. La potenza è mai più che possiamo sopravvivere. Vai, killo l'ultimo stronzo, dai. Ok. Ok. Possiamo stare tipo uno qui? No, sto giù, sto giù. Ok. Poi che si scende qua, si scende. Io non capisco da dove si scende, dove si sale. È veramente un labirinto sto ma... Salma non è male, eh. Tu hai F2000. Sì. Però andrebbero potenziate, chiaramente. Sì, potenziate poi. Non sono male, ma... Anche già sono iniziale potenziata e... Cambia completamente. Almeno si diventa Mustang e Sally. Merda, mi stava buttando giù. Ora vi mettete tutti in fila, belli di casa, e vi faccio minchia... Il culo a tutti. Ok, guarda avanti i bei punti. L'ho trovato qui. Tratto, un KSG da... Sì, ecco. È quello che mi è successo prima. Quando sono andato all'arma, c'è tipo... Gli zombie mi hanno assalito, praticamente. Ho fatto questo KSG da terra. Sì, se ci passi sopra te lo prende automatico, eh. E' attento se non vuoi l'arma... Faccio cazzo di col... Infatti me l'ha preso. E ho perso la mia arma, infatti. Che arma c'è qui? M1 Iron. Cos'è l'M1 Iron? Di nuovo con la pistola del cazzo! Sto buttando i miei soldi in queste merdate. Vabbè, zio. Tu accumula lì, ce la farai. Sì, quasi 10 mila. Vabbè, lascia uno zombie. Quasi quasi potenzio. Non so quanto ti comica come potenziale. Tu sei quello che ha più punti di tutti, quindi quello che deve... A questo punto... Decidi andare dritto. Tanto non sono così forti, cioè almeno non mi sembra così difficile da gestire la situa. Vai, buttali giù. No, facciamo così. Mi rifornisco le ammo e poi continuo. Ok. Difficile è iniziare a fare il giro. Dopo che hai fatto il giro ti apposto. Dopo che hai fatto accumulare la maggior parte di zombie... Eh. Se hai 11 mila, sei praticamente a un terzo. Dai, dai, dai. No, ma il trucco è non potenziare le armi. Fai più punti, esatto. Bravissimo. Perché muoiono molto più lentamente. Ma per quello ti ho detto di non farlo anche, perché sono proprio soldi buttati. Dovessimo fare tipo un high ground, ti direi ovvio. Potenza, ma... Poi c'è l'instant kill. Sai? Vabbè, a questo punto ne approfitto e li butto giù tutti. Ne ho mille davanti. Eh, va. Ma c'è, è possibile. Per evitare l'arma sono andato tipo contro gli zombie che man... Merda, no, non possiamo morire ora, eh. Sta fanno l'instant kill. C'è munizioni infinite, lo prendo? Vai, vai, prendilo. Prova a venire, eh. Sono giù al... Sono tanti? Eh, ce n'è un po'. Mi sa che ti arrivano, eh. Sto provando a venire, ma... Sì. Vai, vai, vai. Ti prego, ti prego. No! Pochissimo. Vabbè, dai. Ma ho perdi punti o sbaglio come sponi? Come? Perdi punti, ma ho sbaglio. Sì, perdi... Forse anche tu perdi punti. Bad, bad, bad. Bad, bad, bad. Poi devi anche spendere per riprenderti le armi. Cazzo, cazzo. No. Vabbè, stica. Adesso lo arrivato su e ce la gestiamo. Ce la facciamo, dai. Eh, ok. Faccio questa macchina perché sono nella merda. Ok, io l'ho potenziata e... Killali, killali, killali. Tutti i tuoi. Ti guardo alle spalle. Vai, bodyguard. Sì, sono in alto, vedo se ti chiudono. Se ti stanno chiudono, ti aiuto. Ok, ok. Ma mi sa che ce l'ho tutti io. Sì, io non ho nulla. Mi rincoglionisce questa apa da quanto è grande. Sì, cioè, non è che è tanto grande. Il problema è che è tutta contorta, che... C'è tutti i passaggi a destra a sinistra per salire e scendere le scale. Anche grigia così e sembra tutto uguale. Oh, no, 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 no. Tu devi morire. Ma come si fa? Erano nelle scale. Cazzo, sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Non puoi morire ora perché sennò veramente siamo... Hai perso punti, scusa? Sì, perché quando vado a terra perdo un po' di punti. O quando muoio definitivo, ora non mi ricordo bene. Ok. Jug, dov'era il Jug? Eh, su, 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 su. Ok, perché siamo tutti due su. Non mi potresti scortare perché... No, infatti non posso più farlo. Ci hanno chiuso, mi sa. Cazzo, attento, attento da dietro. Sono morto io. No. Non ci posso credere. Non mi piace. Questa scorta era un po' profunzionale. Oddio, oddio, come? No, 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 ero... Sono morto per danni da caduta. Non ci posso credere. Non ci... Cazzo di sfiga abbiamo avuto. Comunque è difficile, è difficile. Cioè, non troppo. A questo punto ti dico, cioè, sti cazzi. L'abbiamo sbloccata tutta la mappa per un endgame. Cioè, non ha nemmeno senso rifare tutto quanto. Cioè, non cambia nulla. Voglio dire, l'abbiamo aperta tutta, l'abbiamo vista, sti cazzi, zia. E mancava solamente arrivare a 35.000. E siamo arrivati a quanto? A 20. Sì, eravamo vici. Vabbè, cioè, ma alla fine, nel senso, è una minchiata. Non è che cambia qualcosa. Era giusto per provare. Vabbè, raga, io direi che possiamo concludere il video così. Ringrazio Sal per aver partecipato. Abbiamo potuto riuscire a finirla. Rimane un po' con la mano in bocca. Però dai, almeno, voglio dire, l'abbiamo visitata tutta. Siamo arrivati alla VNF, sti gran cazzi. Vi chiamo alla prossima. Bella raga. Ciao ragazzuoli. Ciao, ciao, ciao.